La presentazione dello sportello ascolto a Casa Pesena, un segnale importante per una cittadina contraddistinta in passato solo per episodi negativi. Sì, un bel ammortizzatore di raccordo tra le istituzioni e la cittadinanza in una terra difficile dove effettivamente non si può pretendere che dall'oggi al domani vi sia una perfetta sintonia tra popolazione e istituzioni dello Stato. Invece con questo sportello si crea un ammortizzatore che sarà indispensabile per far emergere alcuni fenomeni che altrimenti resterebbero inascoltati. È importante però che alla fine questa opera si trasformi da una parte in servizi sociali e dall'altra in denunce alle forze di polizia che possano poi produrre quelle giuste sanzioni che siano deterrente ai dei precabili fenomeni della violenza contro le categorie deboli, della droga e anche della violenza tra giovani.